Io mi chiamo Alessandro, faccio il consulente finanziario, ho già avuto esperienze nel mondo del trading, avevo acquistato altri corsi, solo che diciamo che le esperienze, il risultato che mi aspettavo non era quello sperato. Con Earforex l'asproccio è stato totalmente diverso, è un percorso dove i formatori sia Arduino che Antonio ti accompagnano trattando anche parti che di solito non vengono trattate nel trading, soprattutto la parte emotiva che è uno dei concetti fondamentali di questa professione per chi vuole farlo dal punto di vista proprio lavorativo e anche per chi lo fa come attività secondaria. Questo aspetto soprattutto dell'emotività che è stato anche tra l'altro il primo approccio che ho avuto con Earforex per me è stato illuminante e mi ha convinto nel fare il percorso completo, quindi l'Accademia. Allora diciamo che ho avuto altri corsi, però erano corsi che erano online, avevano anche gli altri la dicitura Accademia davanti, però poi alla fine sebbene avessero anche quelli là un prezzo diciamo ragguardevole, non erano vere e proprie accademie, non erano un percorso, non c'era un contatto, anche sulle altre parti c'era una community, però non c'era un contatto diretto con quello che è il formatore, non c'era un approccio che andava a trattare anche l'emotività e quindi tutti quanti quegli aspetti che vengono fuori solo quando uno inizia a praticare realmente, cosa che posso assicurare che per chi si approccia la prima volta all'inizio viene trascurata, ma poi il trading è proprio quella roba lì, è emotività, mantenere i nervi saldi, e continuare con le regole che si sono prestabilite e modificare appunto il proprio approccio, le proprie operazioni di trading, proprio anche avendo sempre in testa quello che è l'obiettivo, cose che sugli altri corsi non ti spiegano e quando appunto si affrontano proprio il reale, quindi il mettere sorde e perderli sono diciamo emozioni che sono forti e certe volte sono talmente impattanti che ti allontanano dalla professione, dalla professione comunque dagli obiettivi che uno si prestabilisce, con Nearforex ci si sente accompagnati, seguiti e soprattutto prima ancora di entrare in reale, si sono già trattati ampiamente questi argomenti in modo insomma di fare quello che fa veramente un trading professionista e soprattutto un trading anche che poi alla fine con questo metodo diventerà profitevole. Qui c'è proprio un percorso che è strutturato apposta e creato ad hoc per la persona, io personalmente l'ho cominciato da poco però già all'inizio dei primi step ti spiegano che le tempistiche sono variabili e quando loro anche decidono che sei pronto o comunque perché comunque c'è sempre il contatto sia telefonico ma anche comunque nell'invio degli esercizi, quindi quando loro decidono che una persona è pronta in automatico uno anche si sente convinto perché hai avuto un feedback da quello che è il formatore, da quello che è insomma le persone che hanno creato Nearforex e quindi di per sé sì, magari sei pronto, magari ti senti pronto però poi con l'ulteriore conferma che viene dal risultato degli esercizi e delle prove che vengono fatti, comunque dei test, uno parte con tutto quanto un'altra modalità e quindi parte anche con consapevole diciamo che ci sono, possono esserci degli alti, degli bassi che fanno parte del percorso ma che alla fine se uno segue proprio la strada e comunque gli insegnamenti arriva a portare, a diciamo perseguire gli obiettivi che sono quella di essere alla fine profittevole nel trading. La community è senza ombra di dubbio molto compatta, anche amichevole, io li conosco da prima perché venivo come accompagnatore di un'altra persona che aveva fatto l'accademia e subito sono rimasto colpito dal rapporto che avevano fatto e dal rapporto che anche gli stessi formatori avevano con tutti gli studenti, conoscevano i nomi, quindi non era solo una community di trading, si può dire che c'era anche un vero e proprio rapporto di amicizia e questo mi ha colpito in modo molto positivo tanto che poi ho deciso di fare proprio il percorso dell'accademia.